Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. A causa della malattia immunitaria e progressiva di cui soffre da diversi mesi, Céline Dion ha perso il controllo dei propri muscoli. Lo ha rivelato la sorella maggiore della cantante parlando con il sito canadese 7Jours. Claudette Dion ha detto che Céline lavora sodo per arginare le conseguenze della sindrome della persona rigida, la patologia invalidante di cui soffre e che colpisce il sistema nervoso centrale, provocando rigidità muscolare progressiva e forti spasmi. Ciò nonostante, il futuro della sua carriera è incerto. Nei nostri sogni e nei suoi, l'idea è di tornare sul palco. Ma in quale stato? Non lo so, ha detto Claudette, dando ai fan un aggiornamento sulla situazione clinica della sorella. Céline Dion, 55 anni, nel gennaio 2022 ha cancellato i concerti in tutto il mondo a causa della malattia. A dicembre dello stesso anno aveva annunciato che purtroppo gli spasmi hanno un impatto in ogni aspetto della mia vita quotidiana, a volte provocandomi difficoltà a camminare e non permettendomi di usare le corde vocali per cantare come ero abituata. Le corde vocali sono muscoli, ha spiegato oggi Claudette. La sindrome della persona rigida è stata diagnosticata per la prima volta a metà degli anni 50. È una malattia incurabile e rarissima. Colpisce una persona su un milione. Che trasforma chi ne è vittima agli ultimi stadi in statue umane. Alcune terapie possono alleviarne i sintomi, ma lo stadio della ricerca non avanza, secondo i familiari della Dion, a causa del piccolo numero di persone colpite. Mi spezza il cuore vedere i suoi sforzi, ha detto la sorella. Céline è sempre stata così disciplinata. C'è stata così disciplina. Grazie.